Pazienti e familiari inviperiti ma soprattutto disorientati. Dopo il Renzetti il Tg Max fa tappa al CUP di via Don Minzoni a Lanciano per tastare ancora una volta il polso alla sanità. Puntualmente ci troviamo a raccogliere sfoghi e lamentele di cittadini utenti dell'ASL provinciale Lanciano-Vasto-Chieti. Senza preavviso i pazienti si sono visti sospesi i servizi di fisioterapia e assistenza domiciliare integrata e senza un perché. Se ne andiamo manca le prenotazioni ho preso. Ah proprio siete arrabbiate? Sì. Perché quando dovete aspettare? A dicembre dell'anno prossimo. E a luglio. Sono chiudate le carte ma ne sono venute. Agosto. Agosto per un esame se lo puoi dire. Ecodoppler, cardiaca agosto. E tu che dici? Va bene. Va bene. Cioè ti armi di pazienza. Io sono un medico, non lo so, lo sento di riflesso dai miei assistiti che hanno queste problematiche ma è d'altronde. La cura qual è? La cura. Ci sono due tipi di cura. Quando tu trovi un malato che puoi curarlo allora gli dai la cura. Quando ci sono gli incurabili che puoi curare. Consente una battuta? Sì. Un bel clistere? E' evacuativo. Un anno e mezzo mi ha detto. E che dice lei? E che ti posso dire? L'ho pagamento. Oltre che fanno la mutua di aspettare quant'è. Io sono dovevo fare la mia moglie agli occhi per non aspettare la cosa. Ma costa 8 mila euro. Tengo le ricevute in mano. Come si è sentito? Ma sono andato male perché ho pagato tanti diritti fino ad oggi mentre ora mi danno fastidio. Com'è la sanità albanese? La sanità albanese è un po' camuffata quindi se sei qualcuno che si conosce se hai un po' di soldi paghi e fai subito. Quindi è come l'Italia vai tranquillo. Siamo come uguale. Va bene? Sì sì. Hai cambiato paese ma non sanità praticamente. In bocca al lupo allora. Salutaci la terra delle aguile. Non ce la facciamo più con 40 anni che mio marito sta facendo le terapie, delle terapie fisiche. Gli hanno bloccato tutto. Mi pare che, pare che, vediamo un po'. Hanno bloccato all'improvviso delle terapie? Improvviso sì. Per dei tagli? Sì sì. Qui in via Don Minsoni incontriamo anche il giornalista Mario Gian Cristoforo. Scuro in volto. Cos'è successo? Nella mentina di queste signore, c'è una signora in particolare, che lamentava il fatto che all'improvviso il fisioterapista non è andato più e senza che nessuno avesse comunicato il come e il perché. Ecco, pensiamo se una famiglia poi dopo una vita di tasse dovesse pagare anche un fisioterapista di tasca propria. E come fa a pagarla? Adesso ci sono anche le persone che non lavorano neppure e quindi c'è la crisi enorme, però in precedenza magari l'hanno pagata e adesso non si paga più. Questi risultati, insomma, poi quando il, non so, Chiodochi per lui, il governatore dell'Abruzzo, Sivante che ha ridotto le spese sanitarie, per forza tagliando, è facile ridurre, che problema ci sta. Poi, quindi se dovrebbe, insomma, piuttosto magari vergognare di questi tagli, invece Sivante che sono rientrati nelle spese. E qui sono arrivati dei nuovi dirigenti, hanno cambiato tutto quello che c'era prima e una lamentela ogni giorno. Grazie.